I nuovi interventi sono 14 o 13 minuti. Fine anno con i fuochi d'artificio per l'amministrazione Seri per il 2018, ma non si illudano gli amanti degli spettacoli pirotecnici. Questa amministrazione ha ormai da tempo deciso per un passaggio tra il nuovo ed il vecchio anno con il silenziatore a tutto beneficio dei nostri amici a quattro zampe. E anche se non è stato ancora ufficializzato, questa ordinanza verrà emanata anche per l'ultimo fine anno di Seri per questa legislatura. I botti di fine anno sono invece amministrativi, decisamente più graditi al primo cittadino in scadenza di mandato. Pertanto, annunciati questa mattina una serie di importanti appalti e lavori pubblici approvati dalla Giunta entro la fine del 2018 che vedranno l'avvio dei lavori nelle prime settimane del 2019. Uno dei capitoli di spesa più corposo è il 1.900.000 euro destinato alle asfaltature e alla riqualificazione del secciato di diverse strade del centro storico cittadino. La riqualificazione delle scuole con un progetto dedicato per il rifacimento dei tetti, delle coperture di asili, scuole materne e asili in nido, la ristrutturazione della scuola Montessori, la sistemazione con la pista ciclabile lungo via Soncino, la riqualificazione di alcuni rotatori della nostra città, la sistemazione degli arredi urbani sia in centro ma anche i parchi pubblici che nelle nostre periferie ci sono e sono tanti ma non solo, si passa anche dai lavori per la realizzazione di un centro per le pari opportunità delle donne che sarà aperto in centro a Fano, poi ci sono i lavori di riqualificazione di alcune aree importanti come l'ex colonia Tonnini e quindi faremo il circolo Anziani e il centro civico di Gimarra, faremo una nuova palestra Latrave, insomma sono progetti importanti del valore di alcune decine di milioni d'euro, di quale vorrei sottolineare uno importante perché recentemente abbiamo inaugurato, abbiamo posato la prima pietra della nuova scuola di Carrara-Cucurano, abbiamo approvato anche l'altro progetto, quello che riguarda la scuola materna, avrà una palestra, avrà una mensa, avrà un asilo molto importante e molto capiente, quindi siamo veramente soddisfatti perché l'ufficio tecnico, che ringrazio insieme all'ufficio Appalti e Contratti, l'ufficio Ragionneria, ha lavorato lacrimente per permetterci di fare tutti questi appalti entro il 2018 e di iniziare il lavoro il prima possibile nel 2019.